Buonasera mister, partiamo prima di tutto dalla condizione della squadra perché insomma si parlava dell'indisponibilità di Sagnà ma c'erano anche dubbi su Viola. Sì, non solo purtroppo, Sagnà, Viola, Diabatè, Memushai, del pinto un po' ciaccato ma ce la fa, tra l'altro su cose Memushai ha un problema la caviglia già da tempo e adesso gli è aumentato e quindi si è fermato per controlli e per farlo sfiammare. Diabatè ha preso una botta sul fianco e sta riprendendo adesso, Viola un nervo sciatico, anche lui infiammazione e Sagnà sta iniziando piano piano a correre. Dovrebbe però riavere a disposizione Iemmello per l'attacco, giusto? Sì, è rientrato Iemmello quindi potrebbe anche partire dall'inizio, vediamo. Come sta la squadra mentalmente? Si avvicina questa sfida non semplice contro la Lazio come la affronterete? La squadra si è allenata come al solito perché sono ragazzi che non hanno problemi di impegno settimanale. Pochissime volte dopo l'allenamento non sono stato contento di come si fossero allenati perché spingono sempre al massimo. È chiaro, è una partita difficile contro una delle squadre più forti. Facciamo la partita che abbiamo fatto anche in altri stadi cercando di giocare, cercando di non subire possibilmente, ma subiremo sicuramente qualcosa per la loro qualità, cercando anche di fare qualcosa anche noi con la palla perché abbiamo le qualità per poterle fare. Sicuramente non andremo solo per difenderci. Buonasera, come stanno vivendo la settimana Cristiano Lombardi e Danilo Cataldi che per loro comunque è una settimana un po' particolare e in merito a Cataldi, delle prestazioni di Danilo fin qui si aspettava qualcosina in più? Allora io spero che la stiano vivendo in maniera normale o se dovessero avere un atteggiamento diverso, questo deve essere solo un atteggiamento ancora più positivo, ancora più, non dico vendicativo perché giocano contro la loro ex squadra, però un atteggiamento ambizioso. Sì, da Danilo mi aspettavo di più, ma mi aspetto di più da qui in avanti, al di là che lo possa allenare ancora io o no, perché è un giocatore di talento, è solo che il talento va abbinato a maggior cattiveria, a maggior di qualità dei compagni aumenta anche la responsabilità, ma io tutte queste cose chiaramente glielo ho dette e gliele dico da tempo a lui in privato. Per me lui è un giocatore da nazionale come talento e poi come rendimento questo dovrà essere bravo lui e dovranno essere bravi gli allenatori che lo allenano e probabilmente se alternato prestazioni probabilmente anche io qualcosa non sono stato bravo a dargli. A di là di quella che è stata queste due settimane che non si è giocata, da dopo la partita dei Cagliari che risposte ha avuto dal gruppo? Un gruppo già rassegnato, un gruppo che ancora crede in qualcosa di quasi impossibile? Parlo di lavoro anche sul campo, però anche sotto l'aspetto psicologico più che altro. Se devo stare a guardare solo l'impegno settimanale, no, non era assegnato. Spero che la partita con il Cagliari ce l'abbiano ancora ben chiara perché io ancora non l'ho sorpassata. Non l'ho sorpassata perché prendere gol 91-96 in quelle situazioni non stiamo parlando più di calcio. Si tratta di altre cose che probabilmente a noi mancano. perché se fino al 91-esimo non hanno fatto un tiro in porta e poi prendiamo due gol e non è la prima volta che succede, solo col Cagliari abbiamo perso quattro punti e cinque ne ha guadagnati il Cagliari. vuol dire che ci sono altri problemi che non siano solo e esclusivamente quelli del calcio piazzato perché va bene, sì, sarà pure un problema di calcio piazzato ma marchiamo a zona prendiamo gol, marchiamo a uomo prendiamo gol e quindi non è il calcio piazzato. Ovviamente nel calcio piazzato ci vogliono altre componenti che non sono strettamente legate al calcio ma se non ha i valori, ha la voglia di spingersi di più, ha l'orgoglio e che queste bisogna averle se si vuole portare il risultato a casa o se si vuole, come si dice, compiere la fine dell'obiettivo che si ha in testa. Se no si è belli, si è giocato, non si è fatto fare un tiro in porta. Le ultime tre partite noi non abbiamo preso un gol su azione. A Milano due su calcio piazzato, a Firenze uno su calcio piazzato e con il Cagliari due su calcio piazzato. E non è solo marcare a zona o marcare a uomo e questo spero che ce l'abbiano tutti chiaro perché al di là di come va a finire o come non va a finire, questo dà fastidio. Le condizioni dei giocatori che sono stati nazionali negli ultimi giorni. Arriveranno a questa partita avendo probabilmente solo due allenamenti con la squadra. Questo potrà influenzare eventualmente le sue scelte? Sì, Parigini deve fare un'ecografia perché può essere che salti pure lui, che si sia fatto male pure lui. No, gli altri no. Brignola è chiaro, ha giocato 90 minuti e Jim City non ha giocato, Tosca ha giocato. È vero anche che ci sono tre partite in sette giorni e quindi io di questo devo fare un po' conto ma non perché abbiamo la possibilità di fare turn over. No, solo perché Sandro se gioca a Roma con la Lazio non può giocare con il Verona in casa. Degli attaccanti o Brignola ha giocato il nazionale 90 minuti e non può fare altre tre di 90 minuti e quindi bisogna gestirli un attimo a seconda della partita, a seconda dello stato in quel momento in cui andrò a fare la formazione. L'Alessandro rientra, si sta allenando bene, non so se partirà dall'inizio ma può rientrare e siamo il numero giusto per poter andare a fare una partita giusta e per poter cercare anche di vincere Roma. perché dove siamo andati? Milano, Roma con la Roma, a Torino con la Juve o anche a Torino col Torino pur se abbiamo perso 3 a 0 ma fino a quando sia stata in partita, fino a quando sia stata in 11 la partita l'abbiamo fatta e abbiamo avuto occasioni. Quindi di sicuro non andiamo per andare a farci una passeggiata pre-Pasquale. Alla luce di quello che ha detto sulle qualità che questa squadra ha o non ha per quanto riguardava il discorso sui minuti finali o i calci piazzati, diciamo l'attitudine, la volontà di arrivare al risultato e adesso inizia il rush finale, la parte conclusiva del campionato. Diciamo quello che il Benevento non ha, la preoccupa per questa fase finale in cui la squadra potrebbe avere un calo di motivazioni legate alle situazioni di classifiche C'è un pizzico di preoccupazione su questo aspetto? Perché bisogna avere un calo di motivazioni? Io al di là di Sagna e Sandro non vedo tanti che hanno fatto la Serie A per anni, io per primo. E quindi a me fare altre dieci partite in Serie A mi dà stimoli e mi dà la voglia di preparare la squadra per andare a vincere a Roma con la Lazio per andare a fare partite cercando di vincerle quando la prepariamo, per cui non devono farle così anche i giocatori senza neanche parlare che è un obbligo del calciatore, che è il professionista, deve impegnarsi che queste sono cose, sarebbero cose normali, naturali. Però comunque la Serie A qua, se si guarda Wikipedia, di Serie A se ne trova poca e quindi bisogna impegnarsi e giocarle come se mancassero non dieci ma trenta partite ancora. Anche perché poi se io dovessi accorgermi di questo comunque non si gioca perché poi le scelte voi potete contestarmele, questo poteva giocare, quello doveva entrare ma di farmi del male da solo non ne ho voglia. Non mi piace, quindi cerco di mettere sempre la squadra migliore a seconda di quello che vedo, di quella che è la mia idea. Visto che l'ha accennato lei, Sandro non può fare le tre partite in sette giorni, quindi è più probabile che possa giocare con le due big e saltare quella centrale? Può essere, perché parto dall'idea che si va la prima, la si prende come se fosse l'unica partita. Non faccio le scelte sicuramente di Roma in funzione di Verona o col Verona in funzione da Juventus. Perché penso che possiamo andare con i giocatori a fare una partita buona per cercare di portare a casa il risultato da Roma. A lei le va sicuramente riconosciuto il merito di aver fatto debuttare, lanciato Brignola in questa Serie A, in tempi in cui il Benevento era ancora pienamente in corsa per la salvezza, nella fase probabilmente più delicata della stagione. Da qui alla fine c'è la possibilità di vedere qualche altro ragazzo della primavera debuttare? Se lei ha già un'idea in merito. Può essere, perché il settore giovanile del Benevento sforna giocatori forti. Brignola non è entrato perché dovessi fare un piacere alla società o perché sia stato imposto dall'alto. Brignola gioca perché oggi è uno dei pochi giocatori dentro il Benevento che fa la differenza. Gioca a destra, gioca a seconda punta, gioca a trequartista. È forte, ha fame, ha orgoglio, ha dignità. Che poi abbia 18, 12, 15 o 45 anni, poco cambia. Ma quello che si è conquistato Brignola se l'è meritato lui. Poi un occhio di riguardo per i giovani c'è, ma c'è per mia volontà. Perché il giovane, soprattutto se nasce nel settore giovanile, dà entusiasmo a tutti. Dà entusiasmo alla società, dà entusiasmo all'ambiente, dà entusiasmo allo stesso settore giovanile, agli allenatori del settore giovanile, ai dirigenti del settore giovanile, che lavorano con più entusiasmo. rende una cosa che qua probabilmente c'è stato anche troppo poco, ma perché quando si perde è così, un senso grosso di appartenenza e giocare con dei giovani del proprio settore giovanile, questo spirito di appartenenza, senso di appartenenza aumenta. Quindi se capirò che qualche altro elemento, Volpicelli, Siri, Donnarumma, saranno pronti, perché io voglio cercare di fare il risultato fino alla fine, saranno pronti per poter giocare, lo farò con piacere personale e con orgoglio personale anche perché Brignola che abbia esordito in Serie A sotto la mia gestione sarà una cosa che mi porterò sempre anche io con piacere. Buonasera, considerato che è chiaro che la squadra ne esce abbastanza modificata rispetto all'ultima prova, pensa anche di apportare qualche modifica dal punto di vista tattico oppure si va avanti nella stessa maniera? Vediamo perché abbiamo alternato a tre a quattro senza grandi squilibri e quindi questa è una cosa che mi preoccupa di meno, non abbiamo mai sofferto un cambio di posizioni o un cambio di giocatori. Mi preoccupa invece un'altra cosa, o meglio non è che mi preoccupa, però mi piacerebbe, mi piace dirlo prima perché poi dopo dirle dopo diventa facile, visto che la Lazio è un po' di tempo che fa polemiche sul VAR, non vorrei che arriva il Benevento e arrivano quelli che sistemano tutto quello che non si è stato dato, non è stato attribuito alla Lazio in questo periodo, perché pure noi siamo un grosso credito, quindi noi non chiediamo niente, però mi piace dirlo un attimo prima perché domenica o sabato sera dopo la partita magari è facile lamentarsi, no no, io non mi lamento né prima né dopo, però dico solo che se la Lazio si lamenta perché non gli sono state date attenzioni su alcuni episodi, noi potremmo fare un dossier di parecchie pagine e magari noi la voce non l'alziamo, però lo diciamo prima perché non mi piace passare per quello che va e deve essere lui come vittima per sistemare tutto quello che è successo fino ad oggi. In tanti si sono complimentati con lei per il gioco del Benevento, difficile vedere una squadra piccola che produce gioco, però c'è anche una corrente che dice insomma che le squadre che vogliono salvarsi devono avere un assetto un po' meno spumeggiante, diciamo così, anche se poi c'è l'Empoli di Sarri che dice altro, qual è la sua risposta? La mia risposta è questa, innanzitutto se il presidente Vigorito mi ha chiamato, sapeva che tipo di gioco io facevo e quindi se io arrivavo qua e facevo un altro gioco sarei stato disonesto e scorretto nei confronti di chi mi ha scelto. L'altra cosa a me del gioco spumeggiante non mi interessa niente, mi interessa creare occasioni e subirne poche. E se a Milano e se anche con la Fiorentina e se con il Cagliari abbiamo creato e abbiamo subito poco, quello sarebbe l'obiettivo mio. Poi far spettacolo non lo cerchiamo neanche di fare, quindi non è il mio desiderio e poi bisogna capire da che parte si vede il calcio, da che prospettiva si vede. Se uno pensa che fare due passaggi in più voglia dire essere spumeggianti e non concreti può essere una corrente di pensiero. Da parte mia per arrivare al risultato è più facile arrivare al risultato attraverso un'organizzazione che non sia per forza al gioco in possesso palla, che sia un'organizzazione completa, senza con e senza palla. E questo penso che il Benevento l'abbia già dimostrato più di una volta. Poi penso anche un'altra cosa. Magari senza organizzazione le partite non ce le saremmo giocate e le avremmo perse 3-4-0. E quindi c'è anche questo risvolto della medaglia. Ognuno deve fare quello che con coerenza, con passione, con conoscenza sa fare meglio. E io cerco di arrivare al risultato, perché quello che mi sposta la settimana è il risultato, attraverso un'organizzazione di gioco, attraverso che la squadra conosca quando va in campo quello che deve fare dall'inizio alla fine e che poi ci metta anche del proprio, perché se non ci si mette del proprio si fa fatica a arrivare al risultato. Secondo lei cosa è mancato a questo Benevento rispetto ad altre squadre che non sono imbottite di campioni, faccio riferimento alla SPAL, e che sono lì in piena corsa salvezza rispetto al Benevento che è un po' più indietro? Io non c'ero all'inizio, non so quello che mancasse prima e neanche voglio sapere, neanche voglio entrare per rispetto di tutti. A noi spesso ci è mancato quello che ti porta da essere lì a prendertela la cosa. Chiamate voi come volete chiamare questa cosa, perché non è chiaramente concreta questa cosa, e però se non ci si spinge oltre, vuoi per paura, vuoi perché il campionato è partito con difficoltà, vuoi perché l'episodio ti gira male, vuoi per tutto, però quando tu meriti di prendere una cosa, se non la prendi è perché ti manca qualcosa. Però oggi secondo me non è il momento di fare queste valutazioni, perché c'è in testa la Lazio e di andare a fare una buona partita e di andare a fare il risultato a Roma. Dopo ogni partita lei ha sempre tratto un insegnamento dicendolo questa cosa, mi ha anche colpito perché poi non è da tutti gli allenatori, no? Spesso ricordo la sostituzione di Letizia che era già stato ammonito e lei l'ha sostituito in virtù di un'altra precedente partita, non ricordo quale, dove addirittura insomma fu poi proprio col crotone, perfetto. Ecco, cosa invece le ha lasciato questa partita col Cagliari? Difficilissima anche da commentare, no? Perché per 90 minuti era stato un benevento quasi perfetto. Cosa le lascia? Si sente di aver sbagliato qualcosa? Oppure si sente che magari questa partita, anche in virtù di quella con la Lazio, perché ha detto che è concentrato qualcosa da non commettere più? Tornassi indietro con la partita col Cagliari, le sostituzioni farei le stesse anche se poi sono andate male, perché Sagnà dovevo cambiarlo perché me l'ha chiesto lui. E Sagnà prima di questa partita col Cagliari, un giocatore che ha 34 anni, che ha il record di presenza nella nostra squadra ad alti livelli, e viene lui a dirti mister voglio giocare, mi sento bene, fa il provino la mattina a Venticano dove facciamo il ritiro. Quindi gli esami strumentali erano tutti positivi, erano tutti negativi. Quindi stava bene, poteva giocare. Io Sagnà non rinuncio a una partita così importante. Se non c'è neanche una possibilità, o comunque se c'è la possibilità di infortunio normale pari agli altri giocatori, non rinuncio facilmente. Mi ha chiesto il cambio, ho cambiato e ho messo Venuti. Poi mi ha chiesto il cambio Brignola per infortunio e ho messo Cataldi. Perché ci serviva più palleggio in mezzo al campo? Perché Viola e Sandro, quando calano di mobilità, noi caliamo anche di gioco. Quindi mettere un palleggiatore dentro, un centrocampista, andavo solo a rinforzare il centrocampo. Oltretutto senza palla era su Barella, quindi dava pressione a Barella. E l'ultimo cambio me lo dovevo giocare tra Sandro e Djuricic. Siccome Sandro è più abile nei calci piazzati contro, ed è più trascinatore di Djuricic in questo momento, e Sandro a domanda mia come stai mi ha risposto alla grande, sto dentro, ho tolto Djuricic e ho messo il giocatore fisicamente più forte per poter contrastare Pavoletti e per poter contrastare sui calci piazzati. Loro hanno messo degli attaccanti in più e noi abbiamo messo un difensore in più, spingendo con gli esterni. Quindi gli insegnamenti io mi metto sempre in discussione. Probabilmente il fatto di anche dare così importanza ai gol subiti su calcio piazzato può diventare un boomerang per la testa di qualcuno che lo vede come una cosa più pericolosa di quella che in realtà è, perché probabilmente in qualche episodio a noi c'è venuta la fobia dei calci piazzati contro. Ultima domanda, gliela faccio un po' antipatica, quindi puoi rispondermi come vuole, anzi con la massima spontaneità. Paradossalmente questo Benevento ha fatto più punti prima della rivoluzione e dell'arrivo di giocatori importanti. Ma sì, io posso dire che è un caso, perché col Cagliari avevamo già fatto tre punti, perché con la Fiorentina se usciamo con un pareggio non abbiamo rubato, anzi abbiamo meritato. Questa è una squadra che è andata a Milano e ha fatto fischiare l'Inter e l'Inter poi ha fatto cinque gol in casa della Sampdoria. Per venti minuti, un quarto d'ora, ha messo sotto anche il Napoli e non ha sbragato col Napoli, perché anche sul 2-0 abbiamo avuto occasioni e abbiamo fatto bene. Così la stessa con la Roma. Io penso che sia frutto del caso. E comunque io ho sempre detto, anche prima che arrivassero i nuovi, che il Benevento è uno solo, non sono due, prima e dopo. Così non è prima di me e dopo di me. Qua siamo tutti colpevoli e tutti responsabili di quello che è successo. basta che siamo tutti responsabili di quello che è successo e non solo quelli che mettono la faccia.